Ciao Milo! Come stai? Si sa che potrebbe rispettare la bomba? Dammi se la bomba non li ha messi insieme! E noi dovremmo fare la quarta guerra mondiale per finire la terza guerra mondiale! Aspetta, ora... Ma qui ci potrebbero essere anche delle persone con degli AK-47? Che ne so... Vabbè... Ora noi dobbiamo uccidere! Ma che cazzo sta... Vieni! 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 Cazzo! Mi hanno beccato! Ah, allora volete la guerra, eh? Allora io inizio! Vieni! 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 V Oh 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 Diciamo Facciamo così Non voglio forzare la mano Ormai La della quarta guerra mondiale La stiamo vincendo noi Però ora ragazzi E' l'ora di far esplodere La bomba atomica Come vi ho detto prima Quindi ora Siamo nella mia città presto E' l'ora di far esplodere 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 Ragazzi Per quuffare Ragazzi la quarta guerra mondiale è finita? La quarta guerra mondiale è finita? Cobbill morto, Cogector elz compression tutti morti. Sono state anche tante radiazioni in Russia perché io sono andato a Musca a fare questa guerra mondiale e la maggior parte della Russia si aveva distrutte con le bombadoni, quindi non c'è paragone. C'era un ragazzino con una K-47 con un fucile d'assalto famosissimo e un altro con l'M4, che è un altro fucile d'assalto anche molto famoso. Va bene ragazzi, ora vi saluto con un grande abbraccio e noi ci vediamo un altro giorno. Ciao! Ciao!